Il presidente è una giornata importante e storica per noi campani, perché è un campano che sale in una posizione di vertice, una posizione di grandissima soddisfazione per tutto il movimento campano. Ma è un orgoglio per quanto riguarda noi che facciamo calcio da sempre, un orgoglio doppio per quanto mi riguarda a livello personale, perché conosco la famiglia Sibiria, che persone sono. Finalmente, come sto ripetendo da tempo, finalmente la luce, noi come campani siamo lieti, felicissimi della sua nomina e tutto quanto. Però, attenzione, che lui è uno tosto, lui è il presidente di tutti, sicuramente crescerà tanto per quanto riguarda il calcio di rettandistico, perché è uno fattivo. È una persona che viene veramente dal campo, dal rettangolo di calcio. Possiamo solo aspettarci tutto il bene possibile per quanto riguarda cose possibili. Grazie.